Una buonasera a tutti, il primo grande applauso per San Martino e Alfieri! Una buonasera a tutti, dopo due anni torniamo a San Martino e Alfieri, l'orchestra di Mariana Lanteri, grazie a tutti! E' pieno di riscaldamento, una cumbia e subito un girettino di liscio, vi vogliamo in pista, la pista armonica di Andrea Staniaro! Anche tu! Vai Lucio! Buone! 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 i nostri servizi, la fisarmonica di Andrea Stagnaro, fatelo sentire. Bravi, bravi ballerini, i pochi che sono in pista ma adesso si...